Il potere ha preso il controllo di tutta la conoscenza umana. Tutto il sapere è concentrato nelle mani di un unico impero finanziario. Al suo comando, Lady, creatura mostruosa senza scrupoli, votata al monopolio e al mero profitto. Lady controlla tutto, possiede tutto. Nulla è più libero, neanche il pensiero. Ma è nei giorni più bui che si vede la speranza. Dalla clandestinità, i difensori della cultura libera e della condivisione, Lawrence, Coraline, Emma, pirati ribelli, paladini della giustizia e della libertà, irrompono nell'impero di Lady. È la rivoluzione. E non può più essere fermata. Breaking the Lady. Il senso comune si ribella. Prossimamente, speriamo, in teatro. Prossimamente, speriamo, in teatro. Prossimamente, speriamo, in teatro.